Rolex Submariner Kermit, una leggenda verde. Il Submariner Kermit è noto per la sua lunetta verde, un colore brillante e accattivante che richiama immediatamente l'attenzione. Questa sfumatura di verde è così distintiva che è stata paragonata al colore della pelle di Kermit la rana, il personaggio carismatico dei Muppet. Questa scelta di design conferisce all'orologio un aspetto unico che è subito riconoscibile tra gli appassionati di orologi. Tuttavia, questa lunetta verde non è solo una questione di estetica, ma svolge un ruolo cruciale nelle funzionalità dell'orologio. La lunetta girevole unidirezionale, di colore verde, è una caratteristica fondamentale del Submariner Kermit. Questo componente permette di misurare il tempo trascorso in immersioni e altre attività subacquee. La ghiera può essere ruotata solo in senso antiorario, impedendo un eventuale aumento del tempo trascorso, un elemento chiave per garantire la sicurezza dei subacquei durante le immersioni. La combinazione di funzionalità e stile è ciò che rende il Submariner Kermit così affascinante. La storia del Submariner Kermit inizia nel 2003, quando Rolex ha deciso di celebrare il cinquantesimo anniversario del Submariner originale con una edizione speciale. Questo omaggio ha catturato l'immaginazione degli appassionati di orologi in tutto il mondo, grazie alla sua straordinaria combinazione di design accattivante e funzionalità subacquee di alto livello. Il Submariner Kermit è un esempio di come Rolex sia in grado di creare versioni uniche e limitate dei suoi modelli iconici per celebrare importanti traguardi e ricorrenze. L'orologio è una testimonianza del costante impegno di Rolex per l'eccellenza e il prestigio, confermando il suo status di leader nell'industria orologera di lusso. Chiunque lo indossi all'onore di portare con sé una storia di successo, eleganza e raffinatezza.